Ciao a tutti, io sono Carmen, sono un'attivista del meetup Amici di Beppe Grillo di Avellino. Oggi è lunedì 30 marzo 2015, mi trovo in comune e abbiamo appena protocollato una istanza all'attenzione del sindaco Paolo Foti e della commissione elettorale. In questa istanza noi chiediamo che vengano nominati come scrutatori i disoccupati e gli inoccupati per la prossima tornata elettorale di maggio relativa al rinnovo del Consiglio regionale. Riteniamo appunto che questa sia una cosa molto importante perché darebbe una boccata di ossigeno a coloro che non hanno al momento reddito e alle loro famiglie. Vi terremo informati per tutti i successivi sviluppi, grazie e continuate a seguirci.